La revisione del deficit del 2023 al 7,4% da parte dell'Istat rispetto al 7,2% precedente non incide sulle previsioni contenute della DEF, a dirlo il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Il titolare del MEF assicura che l'aggiornamento del quadro programmatico del DEF, coerente con le nuove regole della governance economica europea, sarà illustrato nel piano predisposto entro l'estate. Nel delineare il quadro macroeconomico tendenziale dell'economia italiana, il Governo ha dovuto tener conto delle possibili ripercussioni del complesso contesto geopolitico, basando le previsioni su principi di cautela e prudenza. Nel 2023 il tasso di crescita del PIL reale si è attestato allo 0,9%, un valore di poco superiore a quanto previsto alla Nadev dello scorso settembre, 0,8%. Per quanto rispetto a performance più recenti possa sembrare un passo indietro, il risultato dello scorso anno deve essere contestualizzato all'interno del completamento del rinvalzo post-pandemico e delle difficoltà che soprattutto a causa dell'impegnata dei prezzi energetici hanno frenato in particolare l'economia europea.